Arriva anche Pasquato e a spazio, Del Piero controlla a De Porta Pasquato, Pasquato! Arriva il gol dell'1-0 al 29esimo minuto, azione veloce di ripartenza della Juvea con Del Piero che ha andato in porta Cristian Pasquato Segna già due volte in questo precampionato, questo è il suo terzo gol, è stato al club America Alcuneo Sflocca la partita, questa volta Bramisco non può arrivarci, l'ho fatto in precedenza sulle due conclusioni di Vucinic